Sabato 10 febbraio a Bettole, inaugurazione di questo chiosco Lampre Ghiotto, siamo in compagnia del gestore Massimiliano Meacci. Buonasera, si sto preparando proprio un Lampre Ghiotto in questo momento. Ecco perché la caratteristica di questo chiosco è che preparerà prodotti tipici rigorosamente a chilometro zero. E' sempre freschi, non usiamo roba surgelata, a parte le patatine fritte, ma poi del resto è tutta roba fresca. Cosa sarà possibile gustare qui a questo chiosco? A questo chiosco sarà possibile gustare l'Ampre Ghiotto che sto facendo adesso, gli hamburger di Chianina, sard e sottopesto con pecorino di Pienza, porchetta e basta. Quali sono le salsicce? C'è da sottolineare l'eccellenza del prodotto hamburger. Certo, l'eccellenza del prodotto hamburger, si parla di un prodotto a chilometri zero, in Chianina certificata IGT, che arriva da molto vicino, da Trequanta, sicché è un prodotto freschissimo, di altissima qualità. E sono hamburger da due etti. Quali sono gli orari di apertura? Gli orari di apertura sono dalle 10 della mattina fino alle 8 della sera, questo è il periodo invernale. Tutti i giorni? Tutti i giorni. E quindi facciamo un appello ai nostri telespettatori, o meglio web spettatori, a venire al chiosco L'Ampre Ghiotto. Perfettissimo, sì. Tutti i giorni è aperto. Tutti i giorni è aperto. Tutti i giorni è aperto.